Eccoci alle previsioni per il fine settimana sul Friuli Venezia Giulia. Sabato avremo l'afflusso in quota di correnti occidentali che precedono un fronte che arriverà poi nella giornata di domenica. Per domani quindi c'è lo variabile sulla regione con venti da sud ovest nel pomeriggio un po' più sostenuti sulla costa verso sera e in quota sulle Alpi Giulie. Temperature massime intorno ai 12-13 gradi per quanto riguarda pianura e costa, minima intorno allo zero in pianura, ben sotto zero invece in montagna di notte dove farà decisamente freddo. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica già al mattino avremo piogge, piogge che saranno più abbondanti sulle zone orientali, moderate su quelle occidentali. Quota neve intorno agli 800 metri circa, soffierà vento da sud sulla costa, dal pomeriggio ci sarà un miglioramento ad incominciare dalle zone più occidentali mentre le piogge continueranno su quelle orientali fino a sera, poi cesseranno anche su queste zone. In serata possibilità di nebbia per quanto riguarda la pianura con il rasserenamento del cielo. Poi nella giornata di lunedì avremo ancora in arrivo un'altra perturbazione che ci interesserà da lunedì pomeriggio fino a martedì con precipitazioni che saranno in genere abbondanti e neve oltre 1000 metri circa.